La pagella di Spezia salinitana terminata con il punteggio di 1 a 1. Terracciano 6,5 sicuro tra i pali, conferma maggior padronanza nelle uscite. Mantovani 7, ottimo primo tempo, soffre sul finire di gara la verve di Iemmello. Schiavi 6, l'unica volta che gli sfugge Nenè lo Spezia va in gol. Bernardini 6, è lui il primo calciatore granata ad essere ammonito. Laverone 6,5, prezioso in fase di copertura. Auger 7, è un motorino inesauribile. Bussellato 6, ottimo primo tempo. Rosina 6,5, giocatore di qualità anche se non al 100%. Zito 6, solito lottatore crolla nella fase finale. Coda 5,5, poco dinamico nel primo tempo. Joao Silva 5,5, molto movimento e poca concretezza. Donna Rumma 5, con la testa e con le gambe altrove.